Stanno per terminare a Goito i lavori d'ampliamento del cimitero, lavori che hanno richiesto un investimento di circa 275 mila euro. E intanto l'amministrazione comunale goitese ha già in cantiere un nuovo progetto che prenderà il via fra pochi giorni, la ciclabile Marsiletti-Goito. Inizieranno i lavori della ciclabile Marsiletti-Goito. Ricordo anche che nella ciclabile è previsto l'impianto semaforico a chiamata che abbiamo fatto per migliorare la sicurezza anche dell'attraversamento verso il polo scolastico. Tutto questo progetto ha un valore di circa 320 mila euro. Per quanto riguarda invece un po' la discussione sul traffico che si verrà a creare a Marsiletti, insomma tengo a sottolineare che in primis dobbiamo garantire la sicurezza comunque della zona dell'attraversamento sicuro dei nostri ragazzi. Dopo abbiamo già messo in preventivo l'utilizzo di semafori intelligenti, cioè sono quei semafori che avranno delle fotocellule dove il tempo del rosso è strettamente legato all'attraversamento del pedone. Quindi i disagi saranno minimi, saranno dei tempi limitati solo l'attraversamento del pedone e quindi le macchine potranno subito ripartire senza tempi d'attesa lunghi.